Ebbene amici fratelli della congrega, domenica, siamo nel 2023, io riuscì a curarmi da ogni malessere esistenziale, da ogni depressione atavica, me congenita, connaturata, diciamo al mio modo di essere, grazie ai social, interloquendo con qualche psicologo, osservando la mera realtà putrida, di gente che finge la felicità e nelle sue stories Instagram inserendo musica buonista, consolatoria, l'ultima hit musicale, pezzo orecchiabile per non suicidarsi e allora abbiamo adesso Marco Mengoni che impazza presso le donne, anche se lui è omosessuale, un'altra mette la foto di lei a un centro commerciale, coi jeans attillati e uno che non è ricchione come Mengoni le scrive sotto me coioni, c'è molta gente sta male, ma male davvero? sì, poi di domenica il vicino di casa alza la voce, si riprende dopo il coma neuronale da livello letargico, diciamo, innato, c'è anche chi mette Edoardo Bennato, oppure Antonello Venditti in questo mondo di ladri, quando nella vita è il ladro, sì, assistiamo alla totale incoscienza di un'umanità, lo sbandono, ragazzi sbandate che mettono in colonna sonora, sempre su Instagram, rocchettare che guadagnano, come gli due, 100 milioni di dollari all'anno, non al mese, e loro non guadagnano neanche 100 euro al mese, no, in un anno, sono cinico, non sono sempre stato, vedevo tante ragazze innamorarsi, no, in realtà non erano innamorati, diciamo che erano frustrati, e allora cerchiamo di alleviare questo senso di dolore cosmico, tragicomico, facendosi qualche volta una scopatina, poi io non sono misogino, però dobbiamo guardare in faccia la realtà, io l'ho sempre conosciuto, che cosa? Lei? La vita. Le donne vogliono i soldi, anche gli uomini, anche Bonavox di due, tra l'altro sto renderizzando l'avventura commissario Falò, con magnifico, magnifico, chi non ha neanche un cento, è magnifico e per buono, poi è anche un uomo buono, visto che guadagnano 366 milioni di dollari, fa anche beneficenza, d'altronde che cazzo se ne fate tutti quei soldi. Grande uomo, è amico anche del Papa, sì sì, di Ratzinger, di questo Bergoglio, di tutti i papi. Allora in questa giornata papale, domenicale, le donne vogliono i soldi, vogliono anche un cazzo, se l'uomo ha i soldi, tiene la fatica, come dico in Beridione, lavoro si spacca il culo e la schiena e possiede un membro, diciamo, di 30-35 centimetri, le donne sono felici, arriva la domenica, vanno al centro commerciale a fare shopping, poi a guardare qualche varietà seriele, così per rendere la vita un po' più variata, diciamo, per variarla. Poi accontentano il marito che domani inizia la settimana, le sfonda la figa e poi ritorna la sua fatica. Sì, sono civico, sono brutale, forse sono brutto, bluto, blutaschi di Animal House, sono anche demenziali, John Belushi, uno dei più grandi geni della storia, se non nei books. Uomini che si tolgono tutto, si sacrificano, passano pene dell'inferno per vincere il premio Nobel. Non vinceranno, se lo vinceranno, non otterranno proprio un cazzo della vita. Mentre altri con cazzonette da quattro soldi fanno sì che abbocchino i minchioni a tali mengoni. sono i tromboni, sono gli uomini che rompono i maroni, ci sono quelli che cazzeggiano, giusto, ci sono gli sfruttatori, ci sono i guardoni, ci sono quelli che oramai drogate di social socializzano col prossimo in maniera virtuale, tirandosi il viaggio, oppure quelli di quasi sessant'anni, che vogliono darti consigli, diciamo, finché tu possa scopare come un coniglio. Ecco perché mi stavo impappinando. Il loro unico scopo nella vita è farsi le seghe su quelle di TikTok. Loro sono animatori, sanno dissaminare bene questo tipo di società e vogliono animarti, ravvivarti perché sei depresso. Loro no. Purtroppo vi devo dire la verità. Questa società fa schifo. In questa società è finita. Gente che si è data anche al cinema e allora magnifica la settima arte perché non sa che cazzo fare e come i soldi guadagnare. E si spaccia per gente dotta di cultura e critica gli spacciatori. È uno schifo, è uno schifo. Soprattutto il vicino, che russa, che sbadiglia poi. E ne vogliamo parlare di quelli che dicono, ecco, passo l'aereo, che andranno via dall'Italia, che si involeranno alla volta in Los Angeles. Di Los Angeles. Che cazzo hanno a fare a Los Angeles. Realizzeranno un grande film. Eccezionale veramente. Quanti poveri deficienti che ci sono nel mondo.